Da qualche tempo i rapporti tra la ditta Catanzaro che gestisce la discarica di Siculiana e lato GESA G2 sono burrascosi e adesso a peggiorare la situazione sono tre pignoramenti chiesti ed ottenuti dall'impresa i danni di GESA. Circa 58 mila euro relativi agli interessi dovuti dalla società d'ambito al gestore della discarica per interessi sui crediti da quest'ultima vantati, mentre per la parte capitale lato sta versando somme di mese in mese o meglio quando si ha la disponibilità. Proprio alla fine dello scorso mese di dicembre è stata versata la somma di un milione di euro ma l'impresa vanta ancora due milioni oltre alle nuove mensilità che vanno maturando con il passare del tempo. Più volte proprio per i crediti vantati la ditta Catanzaro ha minacciato di chiudere la discarica di Siculiana agli autocompattatori del lato GESA G2 e adesso l'impresa ha deciso di passare alle linee ancora più dure con i tre pignoramenti e parlando di discarica con l'attivazione della quarta vasca da poco realizzata si dovrebbe risparmiare qualcosa dato che i costi di conferimento sono stati dalla stessa impresa Catanzaro rivisti verso il basso. Questo insieme alla raccolta differenziata potrebbe consentire già per il 2012 un risparmio abbastanza rilevante nella bolletta.